archiviato il capo nel derby le aquile molfetta si trovano di fronte un sala con silina imbattute in campionato amici di puglia 5 da gialluca valente un benvenuto al palapoli per il turno infrasettimanale di serie a 2 maggior storia attenzione murolo murolo parte esterna primo pericolo reno prova a ripartire ma gli scipa il pallone e allora ancora carducci dalla distanza di di poco a lato carducci pressione positiva riparte antonio murolo 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 con una mano marchesano in fallo laterale pallone per adami palla per murolo 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 con il piattone marchesano hanno perso le prime due contro manfredone regalbuto poi alla terza arrivata attenzione alla rete d'improvviso di brunelli tra le gambe di rafanelli per lo 0 a 1 sporting sala con silina si autolancia ancora volonino palla in mezzo brunelli stigliano stigliano ed è determinante reno a portiere battuto a salvare il possibile 0 2 ancora abdala con una mano bravissimo rafanelli al quale poi seguì la seconda vittoria consecutiva in casa del bulldog capuz attenzione brunelli imbucata di abdala e brunelli fa 0 2 e doppietta personale di benedetto sale il barlettano bella palla per adami adami e la palla incredibilmente viene respinta prima da marchesano ma poi d'antonio murolo abdala sterzata il tiro alla rete gol sbagliato gol subito arriva lo 0 3 del sala con silina triangolazione con andrea nirella e poi salva il possibile autogol e gli uari volonino si accentra serie di finte da nirella ancora volonino volonino gran gol di volonino per lo 0 4 dello sporting sala con silina carducci volonino in diagonale in avanti per teramo a spazio teramo il tiro è la grandissima deviazione di rafanelli in calcio d'angolo abdala spalla la porta lo scarico favorisce di benedetto che prova a partire ancora abdala di piede si rifugia in fallo laterale rafanelli da indicazioni recchia dalla panchina murolo andriani respinta di marchesano andriani adami di benedetto di prima intenzione smanaccia marchesano all'intana dalla di benedetto perde palla reino attenzione brunelli lobb e la palla termina in rete 5 a 0 per lo sporting sala con silina arriva la tripletta di brunelli lancio di marchesano verso e gli uari ma non c'è più tempo suona la sirena al palapoli il sala con silina si impone per cinque reti a 0 sulle aquile molfetta se ne vediamo se ne vediamo Grazie a tutti.